Esercito e protezione civile di nuovo in campo per l'esercitazione White Relief 2019. Martedì 29 e mercoledì 30 gennaio si svolgerà la White Relief 2019, un'attività di simulazione di intervento e gestione di emergenze causate da eccezionali precipitazioni nevose. Organizzata dal nono reggimento alpini della Brigata Alpina Taurinense, l'esercitazione vedrà schierati sul campo uomini e donne dell'esercito e dell'Associazione Nazionale Alpini, coordinati dal Dipartimento di Protezione Civile. L'esercitazione si svolgerà nei comprensori dei comuni di Lucoli e Rocca di Cambio, vedrà schierati sul terreno, oltre al nono reggimento alpini e al reggimento Nizza Cavalleria della Taurinense, anche assetti provenienti da altri reparti dell'esercito italiano, come il 28esimo reggimento Pavia, il 41esimo reggimento Trasmissioni Coordinates, l'ottavo reggimento Orgenio Guastatori, il terzo Reos e il reparto operativo di emergenza del Corpo Militare del Sovrano Ordine di Malta. L'obiettivo dell'esercitazione è quello di integrare i moduli della protezione civile con gli assetti militari specialistici, per poter disporre di strumenti adeguati e flessibili, per operare con sinergia in un contesto che ne richiede l'intervento in caso di calamità. Il nono reggimento alpini dell'Aquila impiegherà anche gli assetti specializzati del battaglione Multifunzione Vicenza, reparto costruito ad hoc proprio per operare in caso di catastrofi naturali.